Clarissa, che vuoi fare da grande? La veterinario è uno scienziato. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. La prima repubblica Non si scorda mai La prima repubblica Parlerei piuttosto di una vera e propria rivoluzione della pubblica amministrazione. Chi fa parte delle categorie che sto per nominare non è interessato dal provvedimento e può stare tranquillo. La B A Il lavoratore con più di 30 anni di servizio B I lavoratori che svolgono servizio di polizia G Il lavoratore diversamente abile Grazie, mamma! Deve conferire con la dottoressa No, vischera femmina, ha detto la segretaria. Una buonuscita di 35.000 euro. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando? Io sì. Mi dite un posto di merda! Ma così di merda! Avanti, su! Un cesso voglio! Io non lo lascio il posto fisso! Non lo lascio! Ma porca puttana oggi! Gesù, aiutami tu! Dammi un segno di vita! Che cosa devo fare qui? Lei dovrà difendere un nostro ricercatore dagli attacchi degli orsi polari. Ma sai qualcosa, Jason? Ah, li hai adottati, vero? No! Sono miei figli naturali! Ah, wow! Buon appetito! Signore, benedici questo cibo. Amen! Buon appetito! I contemplate, Dino Buddha, accepting... Che buon appetito! Oh Allah, bless the food you have provided. Tu? Io sono ateo. Ringraziamo a Cristo. Pazzo! Fuori di testa! Sarebbe un posto dove lui si sente in pericolo, lui si sente minacciato! Per me, eh sì. Benvenuto in Italia!